Nel modulo architettonico potrete realizzare pareti semplici o composite, a seconda delle vostre esigenze. Sarà inoltre possibile inserire nei propri progetti porte e finestre parametrici, impianta o prospetto. La quotatura architettonica sarà facilitata e le impostazioni potranno essere salvate. All'interno di CAD Profi troverete una vasta libreria di oggetti parametrici come mobili, complementi d'arredo e sanitari. Sarà inoltre possibile utilizzare simboli architettonici e descrizione dei vani per poter rendere ancora più completo ed accurato il vostro progetto. Vi sono inoltre degli strumenti che vi permetteranno di disegnare agevolmente dei piani d'emergenza, corredati di simboli e segnaletica. L'applicativo ti aiuterà a realizzare molto velocemente piante, prospetti e sezioni. Grazie. Grazie. Grazie.